Noi abbiamo il dovere di far tornare la politica servizio. In crisi di vocazione, qual è quella che stiamo vivendo in questi anni, la politica deve tornare ad affascinare, a parlare al cuore della gente. E per essere credibile, la classe politica dirigente deve essere testimonianza di sobrietà, di semplicità, di efficienza e soprattutto di onestà. Il 28 ottobre alla Regione, Votanello Musumeci presidente. Mi fido di voi.